Diciamo che l'istaccamento di Montevarchi è sempre stato negli anni un'eccellenza per i vigili del fuoco. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo sempre avuto e l'ottimo rapporto con le istituzioni e con il popolo di Montevarchi e di tutta la vallata del Valdato. Sì, siamo in sede a Montevarchi, però abbiamo un'area operativa molto ampia con tutti i comuni della zona del Valdato. Quindi è stato evoluto perché è un distaccamento anche molto molto importante. Abbiamo voluto valorizzare, volevamo valorizzare questo distaccamento anche con l'intitolazione ad un nostro caro collega deceduto in servizio di soccorso il 28 gennaio del 2001, che è Simone Imazzi e abbiamo intrapreso la procedura abbastanza lunga di intitolazione di questa caserma. Quindi abbiamo avuto il benestare e con molta felicità dei familiari e adesso aspettiamo le risposte per poter intitolare questa caserma a un amico e a un collega perché è un ragazzo molto giovane che ha lasciato mogli, parenti e tanti amici facendo il suo lavoro. Quindi abbiamo pensato bene, su richiesta poi dei ragazzi dell'istaccamento di Montevarchi, di poterle intitolare questa caserma a su un amico.